La valanga che lo scorso 18 gennaio ha spazzato via all'hotel Rigopiano in Abruzzo potrebbe essere stata innescata da scosse di terremoto. Si tratta di eventi meteorologici estremi che si possono ancora verificare. Nonostante il fatto che le temperature più elevate possano portare a minori nevicate in senso medio, la realtà è che eventi estremi come quello a cui stiamo assistendo si possono verificare. Quindi forti nevicate possono ancora accadere e dobbiamo ottenere la guardia alta soprattutto dal punto di vista della comprensione di questi fenomeni e della prevenzione di potenziali rischi in montagna, tra cui valanghe enormi come quelle che si sono viste in questi giorni. Per questo è importante prevenire grazie allo studio di questi fenomeni, ma sono necessari dati e informazioni. Questo serve perché? Perché permette di comprendere appunto il grado di eccezionalità di eventi come questi che sono successi, ma anche di proporre un approccio alla zonazione del rischio. All'interno di queste zone è necessario per disporre opportune contromisure, quindi ove vi siano delle zone abitate o comunque dei beni o delle persone a rischio è importante costruire opere di protezione, quali mure paravalanghe o dighe paravalanghe o altro.